RABBIA MISCELATA A VIOLENZA L'unico aperto a quell'ora di notte Secondo gli investigatori infatti al momento dell'arrivo della polizia 6-7 giovani coinvolti nella rissa sarebbero stati fatti entrare nel locale dal titolare presumibilmente per sottrarli al controllo degli agenti Le pattuglie arrivate sul posto bussarono inutilmente sulla porta del bar ma niente, nessuna risposta Poi appena gli agenti si allontanarono per cercare i responsabili della rissa i giovani sarebbero usciti dal locale per darsi silenziosamente alla fuga Circostanza che poi è stata anche verificata attraverso la valutazione delle riprese delle videocamere e dei filmati che sono stati fatti Per la gravità di quanto accaduto il questore aveva subito disposto la sospensione della licenza e l'immediata chiusura del bar per 30 giorni Oggi, alla luce delle testimonianze e dei riscontri investigativi Il titolare del locale è stato denunciato per favoreggiamento personale Il reato ipotizzato è favoreggiamento personale nei confronti di alcuni partecipanti alla rissa che è avvenuta appunto in quell'occasione